Quanto costa la licenza poetica? Beh, come esistenza, come esperienza personale costa l'incertezza, su tutti i fronti, perché quello che si dice è infondato. Io quando scrivo parlo come autore letterario, non diciamo scrittore, non diciamo poeta, non mi fondo su nulla, uno storico si fonda su una documentazione, uno scienziato su degli esperimenti verificati, per fare due esempi. Io mi fondo, mi fido della mia immaginazione, invento, quindi la licenza poetica è libertà ma è anche incertezza e quindi anche crea ansia, angoscia, perché non posso poggiare i piedi su qualcosa di solido. Potrebbe essere nulla, svanire, come le fantasmagorie della tempesta di Shakespeare, dove alla fine tutto scompare, perché era un puro così, una fantasia, un sogno. E poi costa anche un'incertezza economica la licenza poetica, perché non c'è, io ho fatto una scelta, ma quella è responsabilità, colpa mia. Io spero di poter continuare a fare questa attività, mestiere, questa felicità che chiamiamo poter scrivere letteratura. Mi piace la parola letteratura, perché mi piace la letteratura, proprio le lettere, scrivere lettera per lettera. È una parola un po' letteratura non molto rispettata, sa un po' di professorale, invece io ci sono affezionato. E soprattutto il costo più grave della licenza poetica è la disattivazione degli atti linguistici. cosa ho detto? Cioè, siamo liberi, abbiamo la licenza, ma, lo spiego con un esempio semplicissimo, in un romanzo, in una poesia, una promessa non è più una promessa, perché le parole sono azioni, si fanno delle cose con delle azioni. Quindi io sono stato invitato qui e ho promesso di venire. E infatti, insomma, ho mantenuto una volta tanto nella vita una promessa. Mentre nelle poesie, nei racconti, nei romanzi, le promesse del narratore, dei personaggi, sono disattivate. Proprio gli viene tagliata la loro ricaduta nella realtà. Quindi il costo della licenza poetica è usare le parole senza che queste si traducano in azioni. E lasciarle lì, gesticolare. Uno dice, ah, ma allora che serve? Beh, ma a che è servita? Certe ricerche astrattissime di alcuni matematici dell'Ottocento. Beh, un secolo dopo sono servite a andare, a mandare satelliti su Plutone. Loro non lo sapevano, gesticolavano astrattamente con i numeri, con le formule. Ecco, forse anche noi, insomma, no? Don Quixote non lo sapeva, Cervantes, che era un personaggio, forse sì, lui lo sapeva, ma insomma i suoi lettori non sapevano che era probabilmente quello che poi hanno scoperto i romantici, che era un idealista. Era un personaggio comico, per intrattenersi, ridacchiare. Faceva ridere nel Seicento, nel Settecento. Poi è diventato qualcos'altro. È stato attivato, non con un atto linguistico, ma insomma con un'interpretazione nuova, diversa, che ha avuto un'applicazione inaspettata. Ecco. Però appunto il costo della licenza poetica è questo, direi, molto grave, molto forte, che io sento molto, perché insomma mi sento un po', a volte sento la gravità e la grevità di questa inerzia di una parola che non morde, non muove le cose, come un ordine, no? Muove le cose. Un ordine, uno dice, sì, no, la situazione è grave, fate partire l'ambulanza. Una parola può dare un ordine, può far muovere un veicolo, perché la persona che è distesa sull'asfalto rischia di morire, bisogna soccorrerla. Fate partire l'ambulanza. Ecco, i miei fate partire l'ambulanza sono disattivati purtroppo. Ecco, questo lo patisco un po', questa libertà che costa, di questa licenza di poter dire, scrivere, fate partire l'ambulanza, ma quello che parte poi sono due punti. Noi, poi, no.